Buonasera. Tutti quei chiacchieroni che ci vanno. È un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, sì, sì. A nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, no, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941, Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Leo! Che stai facendo? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via! Non fare così, Leo, non serve a niente. Mi dici sempre solo di andarmene. Che c'è, Pa? Non valgo niente? Non sono perfetto come questo cazzo di appare? Adesso basta! Fuori! Adesso! Forza! Fai cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare! Dai! Vediamo che sai fare! Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti colpiscimi? Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Smentila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smentila, Leo! Basta! Troppa paura per reagire, brutta puttanella! Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo. Non sei una persona, sei solo un pottuto pezzo di plastica! Oh, Leo, lascialo stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre. Ti farò a pezzi e nessuno pregherà un cazzo. E tu sai perché? Perché non sei niente, hai capito? Niente! Carl, no! No! No, Carl, no! Gli umani sono macchine fragili. Carl, non lasciarmi, ok? Non andartene, ti prego! Ricorda, Marcus, non permettere a nessuno di dirti chi sei. Ok. No, no, papà! No, ti prego! E' tutta colpa tua! Non sarebbe successo, è colpa tua! L'androide è stato l'androide. Allaia, non è tutta colpa tua! isi Grazie a tutti.